Il reparto A, dove si faceva il supporto, non si fermava mai, si fermava quei 15 giorni estivi perché altrimenti se si bloccava quello era come una fonderia, bisognava gli alti fornibili sempre che funzionino. Poi c'erano i reparti di produzione, lì si potevano fermare, la centrale non si poteva mai fermare perché dava tutti i servizi, quindi si lavorava anche il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il 31 di Dicembre, etc. E nessuno si è mai lamentato, si venivano pagati gli straordinari, venivano pagate le maggiorazioni, venivano facilitate. Adesso mi è venuta in mente un'altra cosa, i mondiali dell'82 che abbiamo vinto, di calcio chiaramente, che abbiamo vinto, io mi interessavo, siccome ero un esperto di cinema e compagnia bella, mi interessavo di fare le riprese televisive nell'82 e fare vedere le partite indifferite per quelli che lavoravano. Cioè quelli che uscivano alle 10, passavano al dopolavoro, si vedevano la partita e poi andavano a casa, perché avevamo previsto che la gente non doveva essere assente per vedersi la partita del pomeriggio, tanto per dire. Quindi questa cultura che ci aveva dato schiatti, lì era già morto chiaramente, però c'erano gli americani, c'erano i tre cambi turni più l'uscita delle cinque. Alle cinque quando usciva al grosso delle persone e alle otto quando arrivava al grosso delle persone. I cambi turni erano proprio dei flussi, c'era intanto due o tre o addirittura più treni che li chiamavano treni degli operai, che erano treni che arrivavano a una certa ora, scaricavano le persone, arrivavano a una certa altra ora e caricavano le persone. Poi davanti alla Ferragna c'era come minimo 15-20 autobus, le famose corriere, come dicevamo noi, che andavano da tutte le parti, andavano a Savona, ce ne erano tantissime che venivano a Savona, c'erano quelli che andavano a Mallare, che andavano a Bormi da Pallare, che andavano a Cengio, Millesimo, Ceva, a Piana, facevano tutto il giro. Quindi quando c'era il cambio turno si vedeva veramente uscire dalla fabbrica e giù dal viale per andare verso la stazione tantissima gente. Poi di tutte le età era bello vedere quei tempi lì, un sacco di giovani, perché in quei tempi i ragazzi a 16 anni potrebbero già andare a lavorare, non c'era ancora lo studio obbligatorio, eccetera, i periti come me ne venivano assunti 15-20 all'anno subito appena diplomati, arrivavano laureati da tutte le parti. Ecco una cosa che voglio, sicuramente l'avrei già detto a qualcuno, ma la voglio dire è questa, che tutte le attrezzature usate nella fabbrica per fare l'emulsione, per fare la stesa, per fare la confezione delle pellicole, eccetera, non erano in vendita. Adesso non lo sono nemmeno ancora, o non lo sarebbero nemmeno ancora state, però non erano in vendita, bisognava farle lì. Avevamo delle officine, si chiamavano officine di precisione, dove lavoravano dei tecnici specializzati, periti meccanici, periti elettronici, ingegneri, eccetera, progettisti per fare la macchina per creare la pellicola. Uno non è che andava alla fiera e dice dammi due macchine che devo fare, no, no. Signori qua parliamo che Ferragna è stata uno dei cinque punti e prima degli anni 70 dei tre punti mondiali di fabbricazione della pellicola, ci sono stati solo cinque punti nel mondo, Kodak, Akfa Gewart, Noi, parlo di colore, e poi negli anni 70 Fuji e Konishiroku in Giappone e basta. Quindi era una cosa difficilissima fare la pellicola. Una pellicola negativa, ve l'avrete detto altre persone, in uno spessore di circa 20 micron, 20-21 micron, micro millesimo di millimetro, 12 strati, uno sopra l'altro, il più grande di 4 micron e il più piccolo di 0,5 micron. È tutto lavorare al buio, senza luce, ma senza luce niente, pancro, zero luce. Quindi è molto difficile, è un prodotto che alla fine diventava un prodotto di consumo rullino, uno lo prendeva, lo metteva nella macchina fotografica, lo sviluppava, però è difficilissimo. Quindi c'era una tecnologia enorme, c'era un parco ingegneri a Ferragna che era fuori dal mio ambito, l'ingegneria, dove c'erano 50, 60, 70 ingegneri e tutti gli anni ne assumevano 10 nuovi, perché dovevano fare tutti questi progetti per fare le macchine per creare il prodotto fotografico. E lì gli americani hanno dato una grossa mano perché hanno fatto degli investimenti forti che prima, quando c'era ancora la Ferragna con la Fiat l'azionista di maggioranza, Ragnelli, ha venduto il pacchetto alla Minnesota e ci hanno fatto uno scambio. Fortunatamente, secondo me, hanno fatto bene a fare quello perché altrimenti non avremmo potuto vendere in tutto il mondo come abbiamo venduto. Quando sono arrivati gli americani alla prima volta, la Ferragna è passata a Ferragna 3M e abbiamo fatto per 3-4 anni l'overlapping, come dicono gli americani, il solapamento, come dicono gli spagnoli, in modo da non perdere il nome di prima e di inserire il nome nuovo assieme a noi prima. Questo a livello, chiaramente, è così, di informazione, invece a livello tecnico c'è stata una grossa differenza, una grossa differenza. Io lavoravo le ricerche al tempo e noi ricercatori, io ero in un laboratorio sempre, ecco, tutta la mia vita professionale è stata nell'ambito dei prodotti colore, quindi io di radio non so niente, di arte grafica non so niente, so quello che so dell'ambiente dei prodotti colore. Dico prodotti colore perché i prodotti bianco e nero in quel periodo stavano sparendo, quindi negli anni 60 c'era ancora un po' di bianco e nero, poi negli anni 62 e 63 è sparito il bianco e nero e è arrivato solo il colore. Allora, lavoravamo un po' a scatola chiusa, cioè gelosi di quello che facevamo e per la ricerca è fatale, sono arrivati gli americani e hanno cominciato a fare il lavoro di team. Il lavoro di team voleva dire che tu dovevi mettere tutto quello che facevi, fare delle relazioni, metterlo a disposizione degli altri ricercatori. All'inizio non è stato facile, perché era un po' come dividere la propria fidanzata o i propri amici con altri e quindi uno rimane un po' chiuso. Quindi gli americani hanno portato come prima cosa questo, la mentalità nuova del lavoro di team per noi e poi per la fabbrica chiaramente ha dato la possibilità, gli americani hanno dato la possibilità di interfacciarsi con gli altri stati, perché loro non facevano pellicole, ma facevano un sacco di altre cose. Quindi dare la possibilità di sapere cosa facevano anche gli altri, avere la tecnologia di alcune cose anche se non prettamente per la fotografia, ma prendere un'idea e cercare di portarla sulla fotografia. La cosa più importante di tutti secondo me era che gli americani hanno dato la possibilità di vendere in tutto il mondo, noi vendevamo solo in alcune zone, in altre non le vendevamo, attraverso il marketing, loro sono arrivati col marketing che noi non avevamo. Quindi questa tecnicamente secondo me, poi magari ci sono altre persone ad alti livelli che al momento, io a quei tempi quando sono arrivati gli americani, io sono del 41, avevo solo 22, 23 anni, 24, c'era gente che magari i miei capi eccetera, se fossero qui, i miei capi del tempo potrebbero dire molte altre cose. Io ho percepito queste tre cose, primo il lavoro di team, quindi tutto quello che facevi lo dovevi condividere con gli altri e tutto quello che facevano gli altri tu lo potevi osservare, migliorare eccetera. Secondo, la possibilità attraverso i brevetti che loro avevano fatto in giro per il mondo di leggerli tutti e trovare qualche spunto e terzo il marketing che noi non sapevamo nemmeno cosa fosse. Secondo, il marketing che noi non sapevamo nemmeno cosa fosse. Noi abbiamo vinto, dico noi, con orgoglio, come Ferragna, con la P30, abbiamo vinto tre Oscar, il più famoso è quello con Sofia Loren eccetera, però voglio dire la pellicola P30 e P33 era in quei tempi la migliore, bianco e nero chiaramente, la migliore pellicola del mondo, quindi si esportava cultura. Grazie. 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 Grazie.